ben ritrovati di nuovo su review vado a recensire insieme a voi questa cover per iphone 11 che comprende anche due vetri temperati con il kit d'applicazione quindi molto interessante acquistato su amazon link in descrizione qui sotto ad un prezzo veramente contenuto è una custodia che vi permette di proteggere il vostro smartphone da cadute accidentali e quindi ad andare a proteggere comunque il display del vostro smartphone ma comunque c'è anche il vetro temperato che potete aggiungere a una specie di fantasia in carbonio non è proprio fantasia in carbonio ma si avvicina molto e comunque i bordi sono alzati di 1,4 mm anche per la fotocamera così da evitare che la fotocamera vada compromessa durante la caduta e il vetro comunque anti impronta permette di proteggere da graffi e quant'altro andiamo a vedere insieme la custodia andiamo ad aprire come vedete c'è questa scatoletta che anche interessante perché sembra ben fatta dovrebbe essere un vetro giapponese dalle scritte correggetemi se sbaglio foglietto di istruzioni anche se non c'è poi così tanto da leggere alla fine c'è la cover questa poi è la trama il bordo rialzato come vedete questi sono i fori e qua c'è anche una specie di protezione come vedete dentro è anche zigrinato gommato per un maggior grip dello smartphone e poi qua abbiamo il kit di installazione con le varie salviettine umida bagnate eccetera e poi due vetri temperati 1 e 2 quindi secondo me è veramente il compromesso giusto eccolo qua il vetro non lo vado a togliere perché alla fine sono sempre i soliti vetri comunque è un compromesso perché non solo avete la custodia la cover è veramente bella come vedete anche flessibile ma avete anche due vetri temperati ad un prezzo veramente irrisorio vi lascio il link in descrizione come vi dicevo prima se avete domande non esitate a pormene